Oggi giocheremo a, non mi ricordo più come si chiama, Boxing League, ecco Ok, allora, io faccio altamente schifo a questo gioco, quindi non giudicatemi, faccio altamente schifo Ok, allora, è un gioco molto carino e praticamente tu devi lottare proprio quando fai wrestling uguale Proprio wrestling Devi lottare, è molto carino Allora, io direi di iniziare da, sono già a livello 11, che non è troppo facile da raggiungere Il livello 11 è un pochino difficile, ma pochissimo Dai su, vieni, vieni Dall'altra parte, vieni Vieni qua, vieni qua Ok, vieni qua Ok Questa è livello 8, ok? Ok Eh, non ho capito niente Ok Questa è livello 8, ok? Ok Questa è livello 8, ok? Ok 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 No, l'ho schivato Ok È messo male tra anche lui Ok 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 No Ok 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 Ma io non ho capito questa mossa Io una volta l'ho fatta quella mossa Il problema è che Non sa più come si faccia Ma che caro Ok Chiudi E' molto carino questo gioco L'unico problema è che un po' così Io voglio la palestra Perché non riesco Non riesco a portare Qua Questo almeno posso Però che noia Chi è su? Ok Vedi profilo sono a livello Ho quasi finito il livello 11 Voglio arrivare al livello 12 Non c'è praticamente nessuno Ecco perché non c'è nessuno Perché tutti sono qua Ti prego ti prego ti prego Ah no Qua no C'è un Andiamo qua Andiamo qua Andiamo qua Andiamo qua Andiamo qua 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 Ti prego ti prego No c'è un prima Vabbè Che sfortuna Ok Io voglio andare Come si chiama Lì dal negozio E prendere un po' di forzieri Tu Tre Credo Posso prenderli Oh no Non me lo ricordo Il negozio va a creare 2500 Dai ma costa Mi tantissimo Chiudi Un negozio Ah Questo costa 2000 Questo costa 2000 900 Più uno Allora io ho questo Oversick Che è potentissimo Ok Ma non c'è niente da fare C'è Tutti stanno giocando Qua Qua c'è qualcuno Non ci sarà nessuno Infatti Allora è inutile Non ci sono abbassa un farina Ce ne sono solo 6 Ok Io mi preparo già qua Perché sta per finire sicuro Sono messi malissimo Infatti Vado adesso Uccidi Un cd L'ha preso Prendilo dai Prendilo con quello No Usa anche Ma non usare solo quello E' morto Oh grazie Cioè Non dovevo usare solo quello Dai dai Vai 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 Io ti puro per lui Che brutta botta Ah poverino Vabbè perde Secondo me Lui perde Purtroppo Ma perde Oh No Avello oscuro Devi aspettare No Adesso uccide Ah no E' stato lì Contrario Cosa è successo Non ho capito niente Ok Potrebbe vincere Anche lui Rimane dubito Oh Vuoi schiaffare Ah Mi sa che perde Mi sa che perde lui Mentre lei no Stranamento Eh si E' finito O c'è anche un altro round C'è un altro round E' l'ultimo Questo è l'ultimo Sicuro Butta laggiù Ok L'ultimo round Dai vinci Vabbè Secondo me vince lui Guarda quanta vita Si è morta E' finito il round Vero? No Ancora no Ma basta Ma quanto due? Ma dura troppo A livello Ok dai bravo Dai bravo Non l'ha presa Usa anche i pugni normali Possono servire Ah Questa volta Questa volta mi sa che vince lei Vince lei Vince lei Vince lei Vince lei Vince lei Eh infatti Mi dispiace Ha vinto lei Oh boverino Ha prestato il cavo Dai Ok Tocca a noi Nivello Nivello unici Venti Ditto eh Ok Ok Non mi ha preso, quanto ci dole? Oh, ce l'ho fatta! Non ho capito bene cosa è successo, ma va bene con me. Sto vincendo di brutto, anche se lui è molto più forte di me, sto vincendo di brutto. Ah, qua è brutta, qua potrei vincere. Qua è messo male, mi dispiace, mi ha messo male. Ah, è messo male, ho ancora tantissima vita, ma quanta cavolo di vita ho? E lui ne ha meno? Non ha senso, però va bene. Questo funziona sempre. Vai, non mi ha preso! Oddio, potrei vincere. Ce l'ho fatta di nuovo, oddio. Eeeh, calmo! Oh! Con un vantaggio. Con un vantaggio lui. No, se mi vantaggio io, ma che dico? Oh, ha preso! Vai! Colpito! Oh, l'ho rispinto! Preso, 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 preso! E' messo veramente male. Ma... Ok! Round 3, mi sa che è l'ultimo round, perché se vinca anche questa, allora è l'ultimo. Però ne dubito, non credo di vincere. Però sono forte. Devo dirlo. Non pensavo di essere questo. Preso? Anche se avevo uno scudo, mi dispiato un po'. Vabbè, vinco. No, non l'ho preso? Oh! L'ho colpito! No! Sono messo malissimo! Ti prego! Voglio vincere. Perché ho pure dopo... non l'ho preso! No! yes sir yes sir ho vinto yes sir 3 a 0 yes sir anche se lui era più forte io ce l'ho fatta qui livello superiore che bello livello 12 yes sir cosa vinto bello pastel cos'è pastel no che bello già livello 12 ok yes sir sono forte non pensavo non pensavo affatto inventario meno 5 più 4 non è molto forte ok io direi che per questo video è tutto ci vediamo un prossimo video perché sto facendo 19 minuti in un sacco ciao ciao